Una città che corre, 60.000 i partecipanti all'edizione 2018 della Stramilano, storica corsa non competitiva meneghina, la partenza, avete visto appunto il momento della partenza in Piazza Duomo, 10 km di festa, non solo sportivi ma tanti milanesi affezionati a una tradizione che si rinnova ogni anno, attraversate le vie del centro in questa prima domenica di primavera, in contemporanea si è svolta la mezza maratona agonistica riservata ai professionisti per tutti e l'arrivo all'arena civica Gianni Breva.